Vediamo come cercare tra le risorse della biblioteca un libro o un articolo di cui abbiamo solo la citazione. Il patrimonio della biblioteca è sia cartaceo che elettronico. Abbiamo libri cartacei ed e-book, articoli cartacei ed e-journal. Hai a disposizione diversi strumenti per trovarli. Se cerchi un libro in italiano, ti consigliamo di iniziare la ricerca nell'Opac Bicocca in Subria, dove trovi informazioni sul materiale cartaceo, soprattutto libri in italiano. Se non lo trovi lì, puoi cercare tra gli e-book, andando in riviste libri elettronici. Il loro numero aumenta di anno in anno. Se il libro è in inglese, al contrario, ti consigliamo di iniziare a cercare negli e-book. andando in riviste libri elettronici. Se non lo trovi, puoi cercare nell'Opac. Compriamo infatti anche libri cartacei in inglese e in altre lingue. I libri cartacei e gli e-book sono complementari. Lo stesso titolo può essere disponibile in entrambi i formati. Ricordati quindi di controllare sempre sia l'Opac Bicocca in Subria che riviste e libri elettronici. Se cerchi un articolo, come prima cosa controlla negli giornali. Inizia la ricerca in Google Scholar. Se non lo trovi lì, controlla in riviste libri elettronici. Se non lo trovi ancora, soprattutto se è un articolo in italiano, ti consigliamo di ripetere la ricerca nell'Opac. Anche in questo caso, la stessa rivista può essere posseduta in entrambi i formati. Quindi controlla sempre tutti gli strumenti.